Cosa è la vita, Pino Gasopollo? Sì, Cosa è la vita è praticamente un testo che io ho inteso scrivere come contributo e come dimostrazione facendomi carico anche del pensiero di tutta la popolazione di Cutro che è stata e si è dimostrata all'altezza del fabbisogno in quei giorni tristi della tragedia io questo testo l'ho scritto e ne faccio omaggio ufficialmente al mio comune e al primo cittadino di Cutro a tutta la popolazione di Cutro, ne farò omaggio anche al comune di Crotone e al vescovo di Crotone ringraziandoli proprio effettivamente per tutto l'impegno che ci hanno messo in questa tragedia Lei abita tantissimi anni al nord ma resta diciamo forte questo legame con il suo comune Il mio legame con il mio paese non lo potrà mai cancellare nessuno anche se sono quasi 40 anni che sono via ma io vengo tutti gli anni, molto spesso vengo anche durante l'anno questo legame con il mio paese non me lo potrà mai levare a nessuno Un piccolo ma importante gesto Ah ma sicuramente questa è la dimostrazione che noi cuttesi riflettori non l'abbiamo mai abbassato perché se l'amico Pino ha sentito il bisogno di lasciare un segno indelebile vuol dire che fa capire chi siamo noi di Cutro e quali sono i sentimenti che ci animano quindi un grazie di cuore per questo grande gesto di dimostrazione di quello che siamo Lei l'ha detto un sacco di volte questa tragedia noi l'abbiamo sentita come una tragedia di famiglia Ma è così non può essere diversamente come si fa a rimanere impassibile rispetto a quanto è successo e io fin da subito ho fatto in modo che le salme che come sapete ne ho inumate già sette nel nostro cimitero ho creato questo cimitero islamico proprio per dare un segno tangibile perché noi non dobbiamo mettere i problemi al di là di uno specchio quello che succede agli altri non succede a noi stessi anzi mettiamo in conto che possa succedere anche noi Grazie